Sono iniziati i lavori di consolidamento e rifacimento della sede stradale in strada comunale Canale a Bucchianico interessata da una frana nei primi giorni di marzo quando tutta la regione fu investita da una violenta ondata di maltempo. I lavori per un importo di 260.000 euro sono affidati al genio civile di Chieti Pescara e termineranno entro 90 giorni. I dettagli dal geometra Salvatore della ditta incaricata. Inizialmente gli interventi sono quelli dello spostamento dei sottoservizi presenti. Ci sono delle fibre ottiche, c'è un cavo telefonico, c'è una rete idrica, c'è una rete fognaria. Dopodiché si passerà alle opere di sottofondazione perché ci viene una parificata su un zatterone di ripartizione carico sul quale verranno fatte delle gabbionate e poi a ridosso delle gabbionate verrà ripristinata la sede stradale. Il tutto avverrà nel giro massimo di 30-60 giorni. Salvatore della ditta Grazie a tutti. Grazie a tutti.